Vittorio Storaro è stato il direttore della fotografia di moltissimi capolavori della storia del cinema, dal conformista all'ultimo imperatore, ultimo tango a Parigi, Reds, Apocalypse Now. Ha vinto tre premi Oscar e al Marché di Cannes è arrivato per presentare Eros in Winter, diretto da Joshua Sinclair. Si tratta di un biopic dedicato a Edith Stein, la cui vita viene svelata da un giornalista americano che durante il suo lavoro di ricerca scopre molto anche di se stesso. Mentre attuiamo, realizziamo, cerchiamo di materializzare una parte della nostra professione, in realtà facciamo tutto questo per conoscere meglio noi stessi. E lo trovo straordinario questa cosa qua. Questa è la grandezza, credo, di questo progetto, non soltanto la grandezza umana e spirituale di un personaggio come Edith Stein, ma il fatto di capire come noi, attraverso qualsiasi professione, riusciamo a capire noi stessi. La sua professione Storaro l'ha scelta quasi 50 anni fa. Con Bernardo Bertolucci ha avuto il suo dalizio professionale più lungo, ma con Woody Allen ha stretto un forte legame. I due si erano incontrati nel 2000 sul set di Ho fatto a pezzi mia moglie di Alfonso Arao, in cui Allen recitava. Poi Woody gli ha proposto di fare il direttore della fotografia di Caffè Society. Incontrando con Woody ho detto, Woody, io lo so che in genere gli ultimi tuoi film, un pochino tu grande amante del bianco e nero, sono stati di un po' un monocolore quasi. Io sento invece che c'è bisogno in questa storia, anche perché ne sento anche io nella città, di avere una dualità tra il mondo ebraico del 35 a New York e il mondo di Hollywood degli anni 40. E lui ho detto, ma esattamente questo è il film. Con Allen ha poi lavorato nella Ruota delle Meraviglie e nell'ultimo, Rainy Day in New York. L'ultimo progetto che abbiamo fatto è una storia molto più semplice, quanto prima vedrete e potrete ammirare, tra due giovani, che è un pochino il Woody che ama avere un certo amar cord, cioè tornare a certi suoi ricordi di varie idee, anche questo fatto a New York che è un pochino la sua storia.